Musica Avrebbe consegnato i pizzini di Matteo Messina Denaro, arrestata per favoreggiamento Martina Gentile, la figlia della maestra amante del boss. 10 milioni di euro in cocaina nascosta in scatole e destinata al mercato della provincia di Catania, arrestate due persone. Sciopero nazionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale, presentato a Palermo un documento sulle criticità del sistema sanitario ospedaliero regionale. L'avvocato Enzo Guarnera, penalista e presidente dell'Associazione Antimafia e Legalità, fa un quadro completo del pizzo a Catania e provincia. Gli attori Massimo Lopez e Tullio Solenghi sono i protagonisti dello spettacolo dove eravamo rimasti, in scena al Teatro Al Massimo di Palermo. Ben ritrovati al primo appuntamento con l'informazione di Media News di oggi martedì 5 dicembre. Apriamo con la cronaca, avrebbe consegnato i pizzini di Matteo Messina Denaro, arrestata per favoreggiamento Martina Gentile, la figlia della maestra amante del boss. Con le accuse di favoreggiamento e procurati in osservanza della pena aggravata, i carabinieri del Ross hanno arrestato Martina Gentile, figlia della maestra Laura Bonafede, la donna che per anni è stata sentimentalmente legata al boss Matteo Messina Denaro. Nei confronti di Gentile, che il boss considerava come una figlia, la procura aveva già chiesto la custodia cautelare in carcere, ma il GIP non aveva ritenuto che ci fossero indissi sufficienti. Alla luce del nuovo materiale investigativo raccolto dai carabinieri, il giudice ha ora disposto per l'indagata gli arresti domiciliari. Secondo i magistrati, l'indagine è stata coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido Martina Gentile, di cui Messina Denaro in diversi pizzini trovati dopo l'arresto e lo giava le virtù, avrebbe gestito lo scambio della corrispondenza del boss all'epoca latitante, sfruttando il suo rapporto con un altro tramite del padrino, Lorena Lanceri, finita in manette con il marito nei mesi scorsi. Lanceri, ritenuta una delle più strette fiancheggiatrici al padrino di Castelvetrano, avrebbe consegnato alla giovane i pizzini iscritti al capo mafia e Gentile li avrebbe quindi smistati ai destinatari. Lo scambio spesso sarebbe avvenuto nello studio dell'architetto ed ex assessore all'urbanistica del comune di Campobello di Mazzara, in cui le due donne lavoravano. L'indagata, in codice chiamata da Messina Denaro Tan o Tani, condivideva con il padrino e con gli altri soggetti che interloquivano con lui una sorta di linguaggio cifrato, ideato per nascondere l'identità delle altre persone coinvolte nell'assistenza all'attitante. 10 milioni di euro in cocaina nascosta in scatole destinata al mercato della provincia di Catania. La droga è stata individuata dai finanzieri del comando provinciale Etneo e che hanno arrestato due persone. I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato due soggetti che a bordo di due diverse auto trasportavano circa 45 chili di cocaina. In particolare i militari delle fiamme gialle Etnee hanno sottoposto a controllo nella zona industriale di Catania le due auto condotte da due persone di origine catenese. L'andatura pericolosa dei veicoli che procedevano in colonna a distanza ravvicinata, unita alla reazione nervosa di entrambi i conducenti alla vista del posto di controllo, hanno convinto gli operanti a effettuare una perquisizione dei soggetti e dei relativi mezzi. Le attività di ricerca hanno così permesso di individuare tre borsoni al cui interno erano occultati decine di panetti di sostanza stupefacente, risultata essere cocaina per un peso complessivo di 45 chilogrammi. I militari hanno quindi proceduto al sequestro dell'ingente quantitativo di droga rinvenuta, verosimilmente destinata a rifornire le piazze di spaccio della provincia Etnea e all'arresto in flagranza di reato dei due catenesi. Lo stupefacente, qualora messo in commercio al dettaglio, avrebbe fruttato circa 10 milioni di euro. Il GIP del Tribunale Etneo, su richiesta della Procura, ha convalidato gli arresti e i due catenesi sono stati ristretti nel carcere di Piazza Lanza. Contrasto all'evasione fiscale. La Guardia di Finanza di Messina ha sequestrato quasi 3 milioni di euro ed una società peloritana attiva nel settore dei supermercati. Vediamo il servizio. Importante sequestro per reati fiscali del valore di circa 3 milioni di euro eseguito dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina seguito di attività ispettive eseguite dall'Agenzia delle Entrate Peloritana, Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto. In particolare, il focus investigativo ha riguardato un'importante società messinese attiva nella gestione dei supermercati presenti in numerosi centri della fascia tiranica della provincia. Le indagini sono state originate da una mirata attività di controllo tributario effettuato dalla locale direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate. All'esito di successivi e specialistici approfondimenti effettuati dalle fiamme gialle del nucleo di Polizia Economico Finanziare di Messina, si è scoperto che la società in relazione al periodo di imposta 2019 avrebbe omesso di versare l'imposta sul valore aggiunto per un ammontare pari a circa 3 milioni di euro. Da qui la richiesta di sequestro avanzata dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto al competente giudice e successivamente l'intervento del competente tribunale di Messina collegio per il riesame che ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. La misura eseguita ha interessato i saldi dei conti correnti societari e del legale rappresentante estese inoltre le quote societarie di sua proprietà e unità immobiliari fino all'intera concorrenza dell'importo oggetto dell'omesso versamento. Si segnala come l'azienda ispezionata risultasse inoltre già nota alla cronaca giudiziaria e agli organi giudiziari e investigativi per il suo pregresso coinvolgimento in attività di indagine avente oggetto la gestione monopolistica da parte di una nota cosca ed indrangheta calabrese proprio del settore della grande distribuzione alimentare e delle attività economiche adesso collegate. Nel giorno dello sciopero nazionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale nel corso dell'Assemblea Anao Assome e Decimo Fesmed hanno presentato a Palermo un documento sulle criticità del sistema sanitario ospedaliero regionale. Vediamo. Ho preferito condensare le principali criticità in questo documento che verrà presentato oggi a tutti i mezzi di informazione. È una sorta di piccolo dossier in cui segnaliamo le maggiori criticità a cominciare da questo commissariamento ormai eterno dei direttori generali che non vengono nominati che sta di fatto paralizzando gli ospedali siciliani. Quando chiediamo risorse aggiuntive anche per pagare le prestazioni aggiuntive che peraltro sono state finanziate dallo Stato nel decreto bollette quindi pagare i medici di pronto soccorso in prestazioni aggiuntive a 100 euro l'ora ci si dice che ancora c'è di mezzo un decreto che la regione non ha recepito. Insomma quando i soldi servono per pagare il personale che lavora negli ospedali i cordoni della borsa sono strettissimi. Quando invece si parla di dare i soldi alla sanità privata accreditata cosiddetta allora le borse sono apertissime e si danno milioni di euro a piede mani. Parliamo dei rischi per i prossimi anni. C'è proprio la probabilità che avremo davvero pochi medici soprattutto nei pronto soccorso? Ma già li abbiamo oggi pochi medici. Noi abbiamo fatto a gennaio di quest'anno una ricognizione delle carenze di personale medico in tutti i pronto soccorsi della Sicilia e ci eravamo attestati a circa il 50% di carenze. Oggi dopo nove mesi non è cambiato nulla rispetto a quella ricognizione fatta a gennaio da cui era scaturito un documento che abbiamo presentato ai mezzi di informazione nel mese di febbraio e anche all'assessore della salute Giovanna Volon appena insediatasi nel corso di una convocazione in assessorato. Noi abbiamo presentato i numeri abbiamo lanciato l'ennesimo grido di allarme ma in realtà sembra che interessi poco perché nessuno è riuscito comunque a incidere e a invertire questo trend gravissimo. Oggi già la situazione è drammatica. Chi va in pronto soccorso lo sa bene. Il cittadino che si rega al pronto soccorso viene sottoposto ad attese ignobili di 12, di 24 ore prima di poter accedere e poi finisce su una barella abbandonata al suo destino nel corridoio perché mancano i posti letto. È una situazione veramente indegna. Dialoghiamo sulle mafie. Questo il titolo di un convegno che si è svolto alle ciminiere di Catania. Dialoghiamo sulle mafie. Questo l'incontro evento che si è svolto alle ciminiere di Catania. I relatori si sono confrontati sul grave tema dell'illegalità mafiosa nel nostro paese. Le mafie hanno molteplici aspetti e non possono essere ridotte le varie cosche criminali. La mafia è innanzitutto cultura, cioè un sistema complesso di legalità che coinvolge in modo trasversale i ceti sociali, inquinando i rapporti personali, la politica, l'economia e le istituzioni statali. Di tutto questo si è discusso con gli studenti per accrescere il livello di conoscenze e comprendere cosa ognuno di noi possa fare per il contrasto del fenomeno. Purtroppo questi miti che hanno delle radici storiche molto ma molto elevate ricorderò ai ragazzi di oggi un'opera teatrale in dialetto che circolava nel lontano 1865 a Palermo i mafiusi della vicaria in cui si attribuiva a questo mafioso carcerato la vicaria era il carcere che veniva prima dell'Ulciardone e attribuivano poteri veramente di supereroe, di persona che non accettava le prepotenze e che difendeva i deboli. Queste sono delle mistificazioni, in realtà è proprio sulla prepotenza e sulla forza del soddizio mafioso che si fonda la vera forza della mafia soprattutto la sua capacità di interagire con le forze politiche, con le istituzioni con alcuni ambienti dell'economia e dell'imprenditoria come si contrasta? La si contrasta cercando di combattere la cosiddetta povertà educativa e la povertà socio-economica. Inizia dalle scuole perché i ragazzi sono l'unica speranza di cambiamento di questa società ho decennali esperienze di incontri con adulti dove vi è un plauso formale alle mie affermazioni poi però vedo che molti di questi adulti della sostanza si comportano in maniera diversa e allora mi rendo conto che se il mio tempo devo spenderlo per tentare di dare il mio contributo per un cambiamento qualunque devo farlo solo con i ragazzi, non ci sono altre possibilità. Dopo le dimissioni del presidente di Confindustria Catania Di Martino continuano le polemiche sulla sua elezione. L'avvocato Enzo Guarnera, penalista, presidente dell'Associazione Antimafia e Legalità fa un quadro completo del pizzo a Catania e provincia. Dopo tante polemiche il presidente di Confindustria Catania, Angelo Di Martino si è dimesso grazie all'operazione Doppio Petto che ha rivelato come l'imprenditore abbia pagato il pizzo alla mafia per circa 20 anni. Su questo argomento ascoltiamo l'avvocato Enzo Guarnera, penalista e presidente dell'Associazione Antimafia e Legalità. Abbiamo percorso tutti i negozi di Corso Italia da Piazza Europa a Vietinnea uno solo che avesse detto che ha il problema dell'estorsione. Tutti hanno detto che fortunatamente non abbiamo il problema, certo se lo avessimo ci rivolgeremo alla vostra associazione. E invece poi sappiamo com'è finita, prima di dire com'è finita e lo sappiamo tutti aggiungo che io mi sono spinto anche oltre perché per la mia professione sapevo anche che lì qualcuno pagava e ho detto scusate ma voi conoscete Santa Paola Ercolano, conoscete i Pillera, conoscete i Puntina. Sì sappiamo dai giornali che ci sono questi gruppi mafiosi ma non abbiamo mai avuto contatti. Sapevo invece che i contatti c'erano ma il discorso è generale. Siamo stati qualche anno fa dalle parti di Mister Bianco, Piano Tavola, dove diciamo che il pizzo lo prendevano i Martellina, gli Squillaci e tutti dicevano che il problema non l'avevano. Io so per certo dal collaboratore fondamentale del gruppo Martellina, Francesco Squillaci, al quale poi raccontai per telefono questa cosa, dice avvocato ma lì tutti quanti pagavano a noi. Ovviamente ora hanno difficoltà a dirlo. Chiudo per far riferimento alla vicenda ultima della Confindustria catalese. Io devo dire per le conoscenze che avevo mi meravigliai quando Confindustria eresse Di Martino presidente. E' una persona sulla quale non avevo notizie rassicuranti. Queste notizie che mi erano state date da miei assistiti sono state confermate in ultima operazione. C'è questa contraddizione enorme tra chi afferma nelle interviste anche istituzionali che non bisogna pagare le estorsioni e lo affermava il presidente della Confindustria catalese e poi invece contraddicendosi dei fatti per vent'anni li ha pagate e li ha giustificate perché alla fine anche nella sua intervista che ho letto sui giornali giustifica questo fatto. Ora questo è assolutamente indegno e indecoroso. E prosegue all'interno delle commissioni l'iter della finanziaria regionale ma le opposizioni ritengono improbabile che possa essere approvata entro il 31 dicembre. Noi come opposizione abbiamo rappresentato che è necessario avere più tempo più tempo per analizzare la finanziaria nelle commissioni di merito rischiamo di fare un pastrocchio e la Sicilia non solo merita bisogna che si lavori concretamente su quelle che sono le esigenze dei siciliani sanità, infrastrutture, trasporti e le riforme che servono ai siciliani. Con queste tempistiche dettate dal governo regionale rischiamo di fare quello che abbiamo fatto nella scorsa finanziaria un cattivo servizio nei confronti dei siciliani. A proposito di pastrocchio c'è la vicenda del concorso dei forestali. Questa è una questione drammatica che purtroppo investe tutta l'amministrazione regionale e tutto l'apparato burocratico. Una brutta pagina della storia della selezione dei concorsi è inimmaginabile quello che è successo. Noi come Partito Democratico l'abbiamo denunciato sin dal primo momento riteniamo che a questo punto la decisione indotta tra l'altro dall'opposizione del governatore Schifani di ritirare in autotutela la procedura di selezione sia assolutamente legittima ma al contempo ci immedesimiamo nei confronti di tutti quei ragazzi che hanno partecipato alla procedura di selezione e che di fatto vengono estromessi semplicemente per colpa di qualcuno semplicemente perché ci stava di mezzo qualche raccomandazione questo è assolutamente drammatico e bisogna anche porre rimedio a questi diritti che inconsapevolmente vengono calpestati. Tra naso e denti a Palermo 80 esperti da tutta la Sicilia a confronto sulle patologie del seno mascellare prevenzione nuovi percorsi terapeutici vediamo di cosa si tratta nel nostro servizio L'obiettivo del corso è far incontrare due mondi della sanità quindi nel mondo dontoiatrico e gli specialisti o Torino perché? Perché spesso ci sono delle patologie che condividiamo sia nell'ambito delle complicanze sia nell'ambito delle patologie di base che pongono dei quesiti su chi debba intervenire prima chi debba risolvere la complicanza o chi debba preparare il paziente a un intervento piuttosto che a un altro quindi la collaborazione tra le due figure è fondamentale. Se trattiamo i denti di questa regione particolare della bocca che è il mascellare posteriore, superiore ovviamente tutti i trattamenti sono possibilmente a rischio proprio perché i denti hanno questo rapporto anatomico di continuità e contiguità con il seno mascellare ecco che sia delle patologie ma anche i trattamenti che facciamo noi possono sconfinare nel seno mascellare e quindi è necessario ovviamente interfacciarsi con l'altro professionista, con il professionista Torino per diagnosticare al meglio prima e gestire eventuali complicanze poi. L'importanza della collaborazione stretta con la classe Torino-Laringoiatra è imprescindibile non si può affrontare un seno mascellare senza avere un supporto da parte dell'Otorino e soprattutto quando ci siano problemi, dubbi sulla salute del seno mascellare quindi in questi casi non si può assolutamente fare a meno della collaborazione con la classe Torino. Nella relazione ho trattato tutti gli interventi chirurgici che possono permettere di realizzare degli impianti adeguati al carico masticatorio dei denti dell'arcata superiore parliamo dei molari la necessità di rigenerare con tecniche atraumatiche quali possono essere l'uso del magnetic mallet la osteodensification o la tecnica di cosci che risultano decisamente meno traumatici e quindi limitare il disconfort per il paziente rispetto all'uso degli osteotomi di Summers che prevedono dei martelli chirurgici che oltre a creare disconfort possono determinare la sindrome vertiginosa molto molto fastidiosa nei giorni successivi all'intervento. Il 16 aprile 2024 verrà emesso un francobollo celebrativo per celebrare i 110 anni delle rappresentazioni classiche del Teatro Greco di Siracusa Per celebrare i 110 anni del primo ciclo di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa il 16 aprile 2024 sarà emesso un francobollo Il Ministero delle imprese del Made in Italy lo scorso 17 novembre ha inserito l'iniziativa nel programma 2024 delle emissioni di carte e valori postali dello Stato L'emissione speciale rientra nella serie tematica Il patrimonio naturale e paesaggistico L'emissione di un nuovo francobollo per Siracusa ha grande valenza storica poiché celebra i 110 anni delle rappresentazioni classiche una delle eccellenze italiane nel mondo ha dichiarato Valeria Told sovrintendente della Fondazione Inda e patrimonio culturale che appartiene a tutti non solo agli amanti del teatro Il francobollo celebra anche la lungimiranza e l'impresa realizzata dal conte Mario Tommaso Gargallo e dal gruppo di mecenati siracusani che il 16 aprile del 1914 diedero vita al primo ciclo di rappresentazioni classiche con la messa in scena del lagamennone di Eschilo Per queste ragioni non posso che esprimere grande soddisfazione per la decisione del Ministero delle imprese del Made in Italy di accogliere favorevolmente la richiesta che abbiamo inviato nel mese di maggio del 2023 insieme all'Unione Siciliana Collezioni di Siracusa e Lions Club filatelico italiano La Fondazione Eorestia di inaugura giovedì prossimo una nuova sede ad Agrigento nel complesso architettonico delle ex fabbriche chiaramontane Il nuovo spazio all'interno dello storico complesso architettonico edificato nel XIV secolo da Federico Chiaramonte è distribuito su oltre 600 metri quadri con un giardino e una sala lettura prende il nome di Le Fabbriche e nasce con l'idea di realizzare un polo culturale multidisciplinare e stabile nel cuore del centro storico della città a dare il via alle attività sarà la mostra Trame Mediterranee curata da Enzo Fiammetta direttore del Museo delle Trame Mediterranee della Fondazione Eorestia di in programma fino al prossimo 25 febbraio La nostra logica è quella di valorizzare ciò che esiste nel territorio e di portare sul territorio le espressioni le ricerche della cultura contemporanea in tutti i settori quindi lavoreremo anche in vista di capitale della cultura Devo dire che noi operatori del mondo dei beni culturali abbiamo delle missioni che sono standardizzate tutela, conservazione e valorizzazione il milione di visitatori certo ci fa piacere ma lo consideriamo un punto di partenza lo consideriamo un ottimo stimolo per andare avanti e per poter lavorare sempre con questa idea di tutela, conservazione e valorizzazione stiamo lavorando già per il prossimo anno e per l'anno successivo Le Trame Mediterranee sono un progetto che noi mutuiamo dal nostro museo di Gibellina che fu inaugurato nel 1996 Le Trame sono le relazioni sono le possibilità di pacifica convivenza tra le culture del Mediterraneo e la possibilità che sull'arte su questo terreno si possono incontrare pacificamente e discutere senza prevaricazioni dall'uno sull'altro su quelle che sono le vicende che ci coinvolgono in questo periodo Noi con la Fondazione Restiadi anticipiamo capitale e la cultura ma in qualche modo seguiremo questo grande evento con una sede stabile per tutto il tempo delle manifestazioni per il centro storico della città equivale a reimpossessarsi di un luogo che in qualche maniera la città in questo lungo periodo ha voluto riconquistare e credo che il centro città in dialogo con la Valle dei Templi meriti di poter intessere un'attività culturale che possa guardare non soltanto all'antico ma anche alla ricerca dei linguaggi contemporanei Il giovedì 7 dicembre alle ore 17 verrà inaugurata la nuova sede proprio in una sede prestigiosa che è di Zentina le fabbriche canamontane proprio a due passi dalla Via Tenea e spero che questo diventa proprio un punto di riferimento per il turista che viene a visitare a Grigento E ora parliamo di spettacolo gli attori Massimo Lopez e Tullio Solenghi sono i protagonisti dello spettacolo dove eravamo rimasti in scena al Teatro Al Massimo di Palermo fino al 9 dicembre prossimo Allora direttamente dai camerini del Teatro Al Massimo di Palermo dove noi ogni tanto veniamo con tanti anni con molto piacere per questa nostra nuova fatica fatica, gioia in questo spettacolo dove eravamo rimasti che praticamente è una sorta di continuazione dei nostri racconti al pubblico bypassando i due anni forzati di sosta della pandemia quindi è un ritrovarsi dopo il successo che ha avuto il primo spettacolo perché ha fatto quasi 300 repliche quindi ci piace insomma bissare questo successo con questo ci auspichiamo con questo nuovo spettacolo E non vedevamo l'ora di calcare nuovamente il palcoscenico proprio per incontrare il nostro pubblico che noi riteniamo sia un po' come se fossero dei parenti per noi la gioia proprio di dare di dare calore e ricevere calore Io ho dei parenti palermitani perché mia moglie è figlia di una palermitana quindi sono coinvolto anche affettivamente in questo senso diceva prima Massimo quasi familiare e questo è una cosa meravigliosa non è solo il fatto di essere conosciuti per strada ma il fatto di avere comunque un qualcosa che soprattutto degli anni del trio che riguarda ognuno di loro E poi per me è fondamentale gli anelletti gli anelletti dalla pasta al forno proprio per me sono fondamentali non li trovi dalle altre parti non li trovi li trovi qui quindi quando mi vedono mi dicono vuoi la pasta o fuori e io dico sì quello assolutamente sì anche io ho molti amici amicizie amicizie che sono ormai famiglia quindi vengo qui e per me è famiglia e quindi è una gioia davvero vi aspettiamo anche perché all'interno del nostro spettacolo c'è uno scoop mica da ridere un bellissimo duetto tra il presidente Mattarella e Papa Bergoglio ecco e come si fa a non mancare perché il mondo ha bisogno di pace l'uomo ha bisogno di pace purtroppo le nostre cariche istituzionali ci tengono forzatamente separati non è non è un'interno più di l'uomo spesso se scandisce è meglio che non si capisce niente si chiama Pietro Marino è palermitano ed è l'ideatore di Yourself l'app che mette in relazione persone che si trovano in prossimità e danno i medesimi interessi trasformare la casualità in opportunità e questa è la caratteristica di Yourself una nuova app ideata dal palermitano Pietro Marino Yourself è l'unica app che ti permette di interagire con persone che hanno un'affinità con la tua persona in base alla posizione dove ti trovi l'app riesce attraverso la geolocalizzazione quindi attraverso la tua posizione ovunque tu ti trovi a trovare persone che hanno un interesse comune al tuo intorno a dove ti trovi tu quindi cosa succederà nella home tu vedrai sempre post di persone non solo che segui perché già hai avuto un interesse verso quella persona quindi ti piace ciò che pubblica ma troverai in home i post delle persone che sono sempre nelle vicinanze quindi di persone che non conosci che hanno interesse in comune col tuo e questo è molto importante è il punto cruciale dell'app il punto di forza secondo me è quello che anche quando hai il telefono in tasca e non sta usando l'app l'app riconosce queste informazioni quindi le informazioni che tu hai inserito nell'app attraverso un questionario che si va a compilare quindi io vedo un po' yourself come un amico tu gli dici quello che ti piace tu gli dici che tipo di lavoro fai tu gli dici che tipo di lavoro vuoi trovare e l'app attraverso queste informazioni trova mentre meno te le aspetti avendo anche il telefono in tasca ti avvisa quando qualcuno è nelle vicinanze che ha un interesse in comune col tuo attraverso una notifica di prossimità ma non arriva solo a te arriva anche all'altro utente non risulta invasiva perché è l'app applicazione stessa che ha riconosciuto che avete un interesse in comune e manda una notifica a entrambi lo stesso momento quindi puoi andare a visualizzare il profilo di quella persona se hai un interesse puoi seguire quella persona puoi inviare un messaggio e quindi puoi interagire con persone intorno a te mentre meno te l'aspetti cioè noi diciamo sempre che creiamo della casualità un'opportunità è realmente un'app che crea opportunità giornaliere ti connette col mondo reale da oggi una nuova rubrica settimanale per favorire le adozioni dei nostri amici a quattro zampe ospitati nei rifugi della città ad aprire è Pachito un dolcissimo cucciolo che somiglia molto a un piccolo spinone lui è Pachito un dolcissimo cucciolo di tre mesi in attesa di adozione ospite del rifugio SOS primo soccorso di Palermo una struttura gestita con cura e amore da Francesca Cognato che da decenni si occupa dei trovatelli in città sono circa 80 i cani salvati alla strada e da situazioni critiche noi ne presenteremo alcuni durante le prossime settimane sono 80 cani ci sono pure i gatti comunque tutti provenienti da situazioni disastrate abbandonati maltrattati quindi cerco di metterli su e chiedere adozione lui è Pachito insieme agli altri tre fratellini è stato uscito dal canile di Palermo dove erano stati abbandonati è un cucciolo dolcissimo giocherellone ovviamente solo che è nero quindi non sarà semplice trovargli adozione ecco sfatiamo questo luogo comune che i cani neri non trovano padrone purtroppo dovrebbe essere così ma purtroppo non è così perché come avete visto noi qui abbiamo tanti cani neri che non hanno mai ricevuto una richiesta di adozione quindi spero che per loro si aprano presto le porte di una casa di una famiglia che decida di adottarli perché veramente sono oltre ad essere meravigliosi credo che ogni cane abbia diritto a vivere felice in una famiglia questa era l'ultima notizia io vi ringrazio per essere stati con noi vi do appuntamento alla prossima edizione di Media News e vi auguro buon proseguimento di ascolto grazie a tutti